Bene amici, dicembre e gennaio sono mesi cruciali per il presente e soprattutto per il futuro ormai scritto del reddito di cittadinanza. Si avvicinano i famosi pagamenti anticipati con guagli, integrazioni, ma soprattutto la stretta, strettissima, per i beneficiari occupabili dal 2023 è comunque un lungo addio proprio che partirà da gennaio per tutti i beneficiari del sussidio. Tante tantissime le modifiche in arrivo a brevissimo che avranno anche un impatto immediato sugli importi e poi vediamo anche, no, girano sempre bonus alcuni veri altri fantasiosi insomma vi do qualche dritta. Io sono Mr.Lul, prima di partire con la sigla mi raccomando, like, iscrizione, campanone e partiamo. Dunque partiamo lisci con dicembre, attendiamo a breve quei pagamenti anticipati pre-natalizi che sono tipici ormai dal 2019. Entro metà mese avremo ricariche per rinnovi, nuove domande e poi le ricariche anche per i beneficiari che attendono ancora la loro ricarica di novembre per ritardi, no, negli esiti dei controlli. Attendiamo anche nuove tornate di bonus 150 euro per chi? Cioè per i tantissimi che non l'abbiano percepito con la ricarica di novembre appunto. Poi tra il 21 e il 23, attendiamo la lavorazione, arriverà la ricarica ordinaria e successivamente a stretto giro l'assegno unico di competenza, novembre. Dicembre poi è anche mese di possibili conguagli su RDC, non tanto perché sia dicembre ma magari per RDC.com, per variazioni reddituali oppure per errate valutazioni dell'istituto nella quantificazione degli importi in corso d'anno. Ma ricordo che a dicembre su RDC non spetta alcuna tredicesima, non esiste, e non esiste nemmeno alcun bonus natalizio. Passiamo adesso al 2023, ultimo anno per il reddito di cittadinanza con tutte quelle novità, alcune incredibili, della manovra meloniana. Prima cosa, ricordatevi entro gennaio di aggiornare o di fare l'ISEE. Poi la prima e più impattante novità, lo sapete, RDC sarà riconosciuto per massimo 8 mensilità nel 2023 a quei nuclei che siano considerati occupabili, cioè quelli dove all'interno non non siano presenti persone con disabilità, minorenni oppure over 60. Poi i componenti di questi nuclei occupabili saranno obbligati a frequentare un corso di formazione o riqualificazione professionale della durata di 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio. Scatta inoltre l'obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua e poi avremo l'estensione e il potenziamento dei PUC, progetti di pubblica utilità, e nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionali o intermittenti, il maggior reddito percepito da lavoro non andrà a ridurre la ricarica RDC entro un limite massimo di compatibilità di 3.000 euro. Poi c'è anche la novità dello sgravio per incentivare le assunzioni, riconosciuto ai datori di lavoro, uno sgravio integrale praticamente del 100% sulla contribuzione in caso di nuove assunzioni proprio di percettori di RDC. Non esiste ad oggi e per ora nessuno stop dal 2023 per fare nuova domanda di RDC o per fare un rinnovo, quindi per ora modifichi su questo non ce ne sono. Purtroppo però non ci sono novità nemmeno su quel nuovo sussidio che dovrà arrivare dal 2024 per tutti in sostituzione di RDC e soprattutto ci sono pochissime speranze che nel giro di soli 8 mesi tutti i percettori considerati tra virgolette enormi occupabili possano essere messi nelle condizioni di trovare un impiego decoroso e pressoché stabile. Attendiamo comunque il testo in gazzetta ufficiale, anche se quello che vi ho fatto vedere è quello bollinato, vedremo se con qualche emendamento potrà cambiare qualcosina, ma sappiate che passi indietro importanti sicuramente non ce ne saranno. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, spero di aver chiarito un po' di questioni che mi avevate anche posto nei commenti sotto agli ultimi video. Ci vediamo alla prossima, un abbraccio, un saluto da Mr. Lul.